Si è svolta stamane la cerimonia conclusiva del progetto di educazione ad una mobilità sicura e sostenibile realizzato da Dolomiti Bus in collaborazione con la Questura di Belluno. Presenti per l'occasione varie autorità, fra cui il prefetto di Belluno, Francesco Esposito, e il questore vicario Federica Ferrari, nonché i funzionari della Questura che hanno collaborato all'iniziativa e gli studenti dell'Istituto Calvi di Belluno. Abbiamo fatto un percorso con le scuole, con i ragazzi delle scuole superiori, delle scuole medie, ma anche dei più piccoli. È un progetto di educazione alla legalità, rispetto dei mezzi, alla mobilità sostenibile. Abbiamo coinvolto 800 ragazzi in questo anno scolastico e alcune decine di istituti scolastici. Un progetto che ha saputo valorizzare vari concetti, fra cui quello della legalità e del rispetto delle regole. È un mezzo importante, soprattutto per una provincia come la provincia di Belluno, che evidentemente sul trasporto pubblico basa buona parte della comunicazione, ma è anche un mezzo che di per sé individua un bene comune, un bene pubblico, da rispettare, da valorizzare. E questo programma realizzato da Dolomiti Bus con la questura di Belluno, sicuramente va in questa direzione, nella direzione di migliorare il rispetto delle regole e la sensibilità verso il bene comune. Per i ragazzi del Calvi, l'attività rientrava nel percorso di alternanza scuola-lavoro. Sì, il progetto di alternanza scuola-lavoro occupa il triennio di tutti gli istituti tecnici e per noi comincia dalla terza con un avvicinamento graduale all'azienda, al mondo del lavoro. In terza, dicevo, i ragazzi sia a scuola che in azienda, come stiamo vedendo oggi, hanno il loro primo incontro con il mondo del lavoro.